13 luglio 2024, messaggio di Nostra Signora Regina della Pace. Cari figli, confidate in Gesù, in Lui è la certezza della vostra vittoria. Camminate per un futuro di grandi prove. Coloro che sono con il Signore mai saranno sconfitti, ma saranno perseguitati e buttati fuori. Il Mio Signore mai abbandonerà i Suoi eletti. Le leggi divine saranno disprezzate e i Miei poveri figli cammineranno come ciechi che guidano altri ciechi. Soffro per quello che avviene per voi. Pregate. Solamente con la forza della preghiera potete rimanere saldi nella vostra fede. Credete fermamente nel Vangelo del Mio Gesù e negli insegnamenti del vero Magisterio della Sua Chiesa. Ancora vedrete orrori ovunque, ma non perdetevi d'animo. Io sono la vostra Madre e sarò sempre con voi. Avanti. Io pregherò il Mio Gesù per voi. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Io vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.